Le prospettive di questa stagione è sicuramente cercare di vincere tutto con la squadra perché nessuno consapevole che possiamo farlo. E poi, beh, fare bene bene per poi provare a esordirte. Speriamo. 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 Stavamo per vedere un esordio pazzesco di Stefano Vettrana. Speriamo. 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 . 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